Giorgetti, com'è questa storia sul Ministero dell'Economia? La stanno un po' mettendo in mezzo? Eh, me sembra anche a lei, no? Sì, perfetto. E se accetta per la Lega? Lei è un tecnico, l'ha scoperto anche lei. Ma no, ma non leggo i giornali. Ma Presidente, no, prego, prego. Quindi, ma poi è lunga, manca ancora una settimana per fare il governo, quindi... Però si sente un po' usato in questa lotta Meloni-Salvini, si sente un po' messo in mezzo, sì. La battuta. Prego. Ho detto che ho ricevuto l'offerta della Juventus, ma la putt'a potente. Sono confuso ma allegri, ecco. Ciao.